Non è solo un funerale questa cerimonia in piazza San Marco per Valeria Solesin, 28 anni, ricercatrice alla Sorbona, un pezzo della meglio gioventù d'Italia, come si capisce dai ricordi dei suoi amici, ragazzi che hanno viaggiato e studiato fra Trento, Berlino, Parigi, il Canada, da Napoli, parlano con accento francese, veneziano o romano, si impegnano nel volontariato e poi la sera si incontrano in un bistro davanti a una birra o a un fiasco di vino rosso della casa in un'osteria vicino all'università. L'addio alla ragazza uccisa al Bataclan è diventato un rito pacifista, un ode alla fratellanza in questi giorni acerbi, come li definisce il padre Alberto, dirigente scolastico molto conosciuto in città che si rivolge direttamente ai coetanei della figlia. Tante ragazze e ragazzi come Valeria, gioiosi, operosamente rivolti ad un futuro che tutti, mi pare, assieme a lei vogliono migliore. Tutte le Valeria e Andrea che lavorano, studiano, soffrono e non si arrendono. Sulla piazza risuonano inno di Mameli e Marsidiese, Italia, Francia ed Europa, seduti vicino il patriarca di Venezia, l'imam e il rabbino. È venuto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che sta a fianco del sindaco Luigi Brugnaro, commosso, che parla di Venezia come città ponte di pace e di mescolanza già nei suoi stili architettonici. Il presidente francese François Hollande ha mandato un messaggio che legge il ministro della difesa, Roberta Pinotti. A nome della Francia voglio solennemente dire che non dimenticheremo Valeria. Ai funerali non bisognerebbe applaudire, non si applaude la morte, ma è l'unico modo questa mattina per dare approvazione al mondo di Valeria, i cui amici si danno il cambio al microfono svelando pezzi privati della ragazza, le passeggiate in bicicletta, gli studi di sociologia a Trento, i Natali nei campi di Venezia, perché Parigi, dove viveva da sette anni, conservava un'anima fredda per un'italiana che appena usciva al sole organizzava picnic sulla Senna. Mi ricordo che mi dicevi, Elena, i francesi sono senza speranze. Per avere un po' di socialità e contatti umani mi tocca stare con i barboni. Frase che dimostra l'ironia con cui hai sempre interpretato il mondo. Non è un rito religioso, ma i rappresentanti delle tre grandi religioni parlano tutti. Il primo è il patriarca, cardinal Francesco Moraglia, si rivolge direttamente a quelli che chiama uomini del terrore. Non arretreremo, dice, ma non cadremo nella vostra trappola di odio. La vostra cultura ci fa inorridire, ma non ci intimidisce. Mai e poi mai divideremo con voi ciò che tragicamente vi appartiene, l'odio. In alcun modo vi concederemo tale vittoria, Valeria non lo vorrebbe. Dopo di lui tocca ai tre rappresentanti della comunità islamica, fra cui un imam che rilancia un'invocazione. Il nome di Allah, lo stesso nome che pronunciavano i terroristi mentre sparavano nel Bataclan, risuona più volte nella piazza. Anche il leader dell'unione delle comunità islamiche in Italia si rivolge ai terroristi. Cara Valeria, i tuoi assassini hanno voluto con il loro gesto criminale di separarci e dividerci. Ma oggi, con questa presenza di unità, i tuoi assassini criminali, anti-islam, anti-unireligione, anti-umanità, hanno fallito. Alla fine, suonalino alla gioia, mentre la salma lascia piazza San Marco. Valeria, quando è morta, stava sentendo musica rock col fidanzato che ha una barba da hipster. Era la meglio gioventù.